Prendo la metro ogni giorno, ora di punta all'andata, ora di punta al ritorno. Vado a correre da sola, la mattina presto, prima del lavoro, nel parco. La notte dopo le feste torno a piedi verso casa. Mi perdo nella folla, non evito nulla, non mi nascondo. Guardo i passanti negli occhi, sorrido ai gruppi di giovani agli angoli delle strade. Provo a imparare l'olandese, anche se nessuno me lo chiede. Faccio tutte queste cose, Paola. Paola, non dire a papà quanto sono spaventata. Salirebbe sul primo aereo per venire qui e portarmi via. Questa sensazione passerà. Volevo solo sentirti. Una voce familiare. Ah, per rispondere alla tua domanda, sì, ho già comprato il regalo per la mamma. Una sciarpa, molto elegante, costosa. Le starà bene, penso. Ok, vado. Ciao, sorella mia. Ti penso. Ciao, ciao. Grazie a tutti.